Allora vogliamo dire tutti insieme famiglia forte chiesa forte allora noi abbiamo visto la settimana scorsa dei principi soprattutto dal punto di vista positivo questa mattina noi vogliamo vedere quale sono alcune caratteristiche di un matrimonio in crisi perché quando tu identifichi quali sono i problemi no allora puoi andare miratamente nei problemi per cercare di migliorare di risolvere il problema quindi andiamo a vedere velocemente almeno questa mattina allora numero uno dio usa la relazione coniugale come uno scalpello sapete che cos'è la scalpello c'è anche l'immagine lì in sottofondo no perché perché di usi il matrimonio per distruggere i tuoi problemi personali irrisolti per questo ho detto che il matrimonio è una sorta di palestra quando il tuo matrimonio rivela una di queste caratteristiche è il modo di dio per attirare la tua attenzione affinché uno o entrambi cambiano possono essere cambiate e trasformate forse io sono il problema e allora il signore mi vuole trasformare usa mia moglie per aiutare me nel mio cammino con il signore o forse sono tutte e due che hanno problemi e allora il signore può usare il matrimonio come una strategia da parte di dio perché entrambe le persone possono camminare più verso il signore perché il matrimonio ha fatto dal punto di vista biblico è fatto a tre persone dio il marito e la moglie ok allora l'intento di dio è che entrambi partner passino dal comportamento egocentrico al comportamento sacrificale che dimostra l'amore divino gesù che cosa ha fatto per noi lui è disceso dall'eternità dove non c'è peccato per diventare sacrificio per la nostra vita e molto spesso le cose non vanno bene nella nostra casa nel nostro matrimonio nella nostra famiglia perché io pretendo e l'altro che si deve sacrificare io comando quindi cose concetti sbagliati pensate in maniera sbagliata che dopo si creano problemi tra marito e moglie tra i genitori e i figli se diventa veramente una situazione molto difficile allora il signore ci vuole modellare se ci vuole scolpire no perché noi siamo trasformati allora lettera a qual è la prima causa di un matrimonio in crisi io spero che questo non sia il problema a casa tua ma se per caso fosse tu sia una persona come io sono una persona siamo peccatori siamo persone che falaci no sia noi sbagliamo abbiamo bisogno di identificare il problema perché se non possa trasformare che una famiglia forte una chiesa forte primo matrimonio in crisi è un matrimonio dove manca comunicazione onesta e intima la prima causa è questo se non comunichi se non parli con la moglie se la moglie non parla con il marito come si vogliono capire l'uno con l'altro non c'è verso se io non parlo se io magari parlo con tutti quanti però io dopo magari prendo te tua moglie ti chiudono una stanza a chiave e noi diciamo ma c'è qualcuno lì non lo so perché ma perché dice che non c'è nessuno perché non si sente una voce non parla non si comunicano o se non c'è un dialogo ho visto l'altro giorno una frase che mi ha mi ha fatto sia di nuovo confermare quello che c'è oggi no è inutile chiedere chi ha un cellulare magari ti devo chiedere quanti cellulare hai perché cellulare ti può aiutare a parlare con chi è molto lontano anche internet questo è bellissimo ma internet e cellulare ci allontanato da chi è vicino mia 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 mi fa avvicinare a chi è lontano ma mi allontana da chi è vicino a me allora il problema è la comunicazione no vediamo qui causa effetto per esempio quando non c'è come confrontarsi è perché c'è un matrimonio pauroso insicuro quando non è diretto allora una cosa manipolativa e non posso parlare però devo devo fare una situazione in modo che tu faccia quello che dico io allora ti devo manipolare oppure quando non funziona quando non affronta i problemi allora uno che è testardo no oppure non accetta la responsabilità a io non so niente quindi è difensivo a questo l'hai fatto te sono i tuoi problemi oppure non riconosce i sentimenti del compagno o della compagna quindi respinge il coniuge in maniera emotivamente parlando quindi non riconosco sia a me non mi è mia mole ma vivo come se non fosse mia moglie non nel senso non c'è un legame di affetto di amore quindi ho respinto quella persona un altro problema di comunicazione non si preoccupa delle esigenze del coniuge ci arrange lui si arrange a lei allora perché chi fa questo è perché una persona egocentrica io penso solo a me se io ho mangiato e dopo non c'è da mangiare per l'altro problema sono i suoi io ho pensato a me ho riempito lo stomaco io sto facendo un esempio molto semplice ma per far capire che in tante situazioni della nostra vita oppure non dimostra affetto sembra una statua un ghiaccio un marmo no non dimostra affetto perché perché dai scontato a ma tu sai che io ti amo a ma quando è stato l'ultima volta che me l'hai detto a 30 anni fa no tu lo sai perché te lo devo dire ancora a ma ti piacciono i fiori dai ma quale fiori devo spendere i soldi così buttare i soldi quindi ferisce ancora di più la persona problema di comunicazione la prima causa allora andiamo noi avanti il matrimonio di finzione è il matrimonio solo di nome quando è solo di facciata è solo di nome è solo un cartongesso diciamo così non va bene due persone vivono il rituale esteriore di un matrimonio eppure uno o entrambi sembrano seguire egoisticamente obiettivi personali individuali il modo di godere di una comunicazione intima e preoccuparsi del bisogno del tuo partner come del tuo mi devo preoccupare sto pensando a me e l'altro che è di fianco a me come mi devo comportare problema di comunicazione paolo dice ai filippesi leggiamo tutti insieme cercando ciascuno non il proprio interesse ma anche quello degli altri se questo serve e vale per la chiesa per la famiglia di dio serve e vale soprattutto per la famiglia il nucleo familiare io devo cercare non solo il mio interesse ma di mio figlio di mia moglie è facile non è facile per questo si parla di sacrificio perché ci saranno momenti che io te ossia all'interno della tua casa ti deve sacrificare ma la comunicazione è importante numero due o lettera b un matrimonio in crisi non solo è un problema quando non c'è comunicazione ma un matrimonio in crisi è un matrimonio in crisi quando un matrimonio in cui le difficoltà sessuali vengono ignorate se parliamo di marito e moglie esiste anche un rapporto sessuale tra marito e moglie noi crediamo alla luce della scrittura che il sesso è una benedizione di dio è un dono di dio per essere umano all'interno del matrimonio oggi molto spesso le persone fanno tutto l'incontrato prima si conoscono vanno a letto e poi vedono se possono stare insieme e dopo non va bene ossia le cose già incominciano in maniera sbagliata dio naturalmente il signore se un peccatore se la vede ci perdona e ci ricostruisce però se io già sono in cristo per i miei figli per la mia vita per le persone che io amo io devo acquisire questa conoscenza però anche se io già sono in cristo anche se ho la moglie in cristo i miei figli in cristo a volte ci sono problemi anche in questo in questa area non della vita matrimoniale allora per esempio vediamo alcuni problemi in questo all'interno di questo problema che per molti è un tabù no la frigidità ossia essere una persona fredda insensibile perché perché ha paura ha problemi psicologici abuso sessuale senso di colpa forse la persona immagino una persona ti sei sposato con una persona che ha avuto problemi nel passato problemi irrisolti forse c'è stata una violenza psicologica forse c'è stata una violenza un trauma no a sessuale proprio per tanti motivi noi sappiamo purtroppo che il nemico ha deturpato quello che il signore ci ha dato quindi dopo questo può creare un problema all'interno di un matrimonio oppure impazienza la donna è un motore diesel che non è neanche turbo bisogna scaldare piano piano l'uomo è turbo 3000 turbo a benzina che scatta più veloce che una ferrari allora impazienza insensibilità egoismo sesso deve essere anche diciamo così tu deve pensare al bene del tuo marito pensare bene di tua moglie se pensi solo a te il sesso non va bene tu deve pensare l'amore il godimento della persona che il signore ha messo con te perché se pensi solo a te soprattutto l'uomo no ha una relazione con la moglie la moglie non ha avuto diciamo il momento di vero godimento e dopo quando si gira il marito già sta dormendo cari io sto parlando di maniera molto chiara perché sia chiaro quello che è il proposito di dio anche perché questa benedizione di dio per la nostra vita e vedo che c'è un silenzio mamma mia quindi state mi state seguendo poi un altro problema all'interno del matrimonio molto serio non sto dicendo noi qui però nel mondo l'infedeltà quindi un incomincia no io non io mi sono visto tanti di quei film che io voglio fare con mia moglie con mio marito quello che ho visto nel film a ma lui o lei non vuole fare allora io vado a cercare fuori questa è pazzia sesso non è solo una unione fisica anche spirituale quindi avere aspettative non realistiche pornografia questo è diabolico distrugge qualunque matrimonio no oggi giorno internet ci può appunto distruggere anche o se distrugge anche il letto se neanche cellulare un computer dovrebbe essere portato nella camera da letto non sia tra marito e moglie oppure affaticamento la persona non ce la fa mai stare con il proprio marito con la propria moglie perché è sempre stanco perché ha una vita stressata perché è un'attività eccessiva quindi bisogna anche riservare del tempo per l'intimità per il marito e per la moglie naturalmente il marito che collabora anche in casa che aiuta la propria moglie dopo magari lei è un po più di perché nessuno è di ferro no se nessuno è di acciaio dopo arriva un punto che veramente sei cotto non ce la fai più e basta quindi anche qui una collaborazione quello che semina la mattina raccoglie alla sera se semini mali durante la mattina il pomeriggio tu stai tranquillo caro fratello che sei sposato che tu la sera non raccogli niente la stessa cosa anche per la moglie quindi è una cosa reciproca una cosa molto brutta il rifiuto quando c'è la manipolazione rabbia imperdonabile sia ha sbagliato nei miei confronti o si è chiuso non c'è più relazione lui dorme da una parte io dormo da un'altra parte questo dio non vuole per una famiglia che in cristo gesù quindi il matrimonio quando soffre una crisi sessuale è perché non sta vivendo l'unica espressione di unità spirituale fisica il disegno di dio che entrambi i coniugi permesso del atto d'amore cedono il loro corpi l'uno verso l'altro la vera soddisfazione sessuale passa attraverso la ricerca di dare piacere all'altro quindi amare e donarsi quindi marito che si dona la moglie la moglie che si dona al marito ok a me cari poi se avete domande vi lascio qualche minuto per la domanda allora guarda bene che dice paolo prima corinzi 7 un capitolo chiave in questo argomento il marito renda alla moglie ciò che gli è dovuto quindi un dovere del marito verso la moglie lo stesso faccia la moglie verso il marito la moglie non ha potere sul proprio corpo e ma il marito e nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo ma la moglie quindi è un appartenersi l'uno con l'altro una consacrazione sesso soltanto tra marito e moglie appunto all'interno del matrimonio quindi c'è un problema di comunicazione che è un problema un problema di ordine di relazione sessuali numero 3 o lettera c un matrimonio in crisi è un matrimonio in cui i valori sono in conflitto io penso una cosa lei pensa un'altra cosa e qui si crea un grande conflitto anche tra molte persone vogliamo alcuni esempi credenze religiose per esempio dovremo andare in chiesa ogni domenica però l'altro dice frequentare la chiesa non è importante ma è una coppia che pensa così dove può andare dove può arrivare oppure responsabilità dei genitori ai bambini dovrebbe essere insegnato ad obbedire e poi l'altro dice ai bambini dovrebbe essere data totale libertà fai quello che vuoi a che cosa serve se la mamma ha sistemato ha detto le cose come devono essere fatte arrivi il padre no no fai quello che vuoi chiede a tua madre non ci non per non domandare neanche a me desinteresse creano conflitti in casa gli impegni coniugali all'adulterio è imperdonabile oppure l'altro dice una relazione estraconiugale potrebbe essere salutare per un matrimonio immagina una situazione del genere no no è un po di pepe ci vuole no sia quindi conflitti conflitti a non finire mai ancora convinzione sul bere non avremo alcolici nella nostra casa oppure uno dice non c'è nulla di male nel bere un bicchiere un altro esempio scelta degli amici i tuoi amici hanno una cattiva influenza su di noi l'altro dice sono sempre stati i miei amici e mi piacciono per dire io voglio camminare con loro lo stesso principi morali l'aborto è sempre sbagliato perché un omicidio l'altro dice l'aborto va bene dovrebbe essere la scelta della madre ma all'interno di una famiglia opinioni così distinte separate questa famiglia spacca Gesù Cristo ha detto che un regno diviso in se stesso non può reggere quindi il matrimonio misto è una miscela di valore credenze opposte avendo il potenziale di creare tensioni critiche lotte di potere quando i valori di base sono in conflitto i partner hanno grandi difficoltà nello sviluppare unità nella mente nella volontà nelle emozioni il disegno di dio per la coppia sposata è che siano simili con gli stessi desideri e scopi consiglio a chi ancora non si è sposato se sei in Cristo sposati con un ragazzo in Cristo se sei una ragazza se sei un ragazzo sposati con una ragazza che è in Cristo perché puoi trovare anche una brava persona ma dopo sono problemi puoi trovare una brava persona che ti aiuta che ha cura di te ma se non ha conosciuto il Vangelo di Gesù Cristo cari saranno problemi io non potrei mai fare quello che faccio se non fosse la donna che il Signore mi ha dato io anni ti conosciamo praticamente da 30 anni sono ancora giovane io anni siamo ancora giovane no ha detto anche Francesca d'accordo che è Francesca e quindi come potrei fare pastore un servitore no vostro se lei non può non servisse insieme a me quindi questo è fondamentale sposa con una persona che ama il Signore sarà difficile lo stesso ma entrambi nel Signore camminano insieme Paolo dice questo là in 2 Corintesi capitolo 6 legge il capitolo e vedi quello che dice l'Apostolo Paolo Paolo dice invece in Filippesi 2.2 rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare leggiamo un medesimo amore essendo di un medesimo animo solo e di un unico sentimento ossia avere un cuore due persone che hanno un cuore una mente in Cristo Gesù ok lettera D o l'ultima parte un matrimonio in crisi è quando è gravato da difficoltà finanziarie allora vedete come gira la ruota o è un problema di comunicazione o è un problema sessuale di ordine sessuale o è un problema come abbiamo visto prima di opinioni diverse contrastanti oppure un problema di soldi questo distrugge le famiglie sono quattro aree campi minati quattro campi minati nella vita delle persone vediamo alcune domande da farci per esempio la famiglia deve pensare chi guadagnerà il reddito familiare e due uno solo quando c'è il discorso di giusto e sbagliato forse nessuno dei due perché con la crisi c'è anche questo però è un problema è anche quello è un problema chi controllerà i soldi solo il marito solo la moglie tutte e due numero tre come saranno spesi i soldi in famiglia oppure il marito prende i soldi e alla moglie dice gli do 50 euro così ma guarda la mano il braccio corto e quasi lo prende indietro ed è brutto questo per una moglie magari che non lavora fuori ma lavora in casa a cura della famiglia a cura dei figli a cura del marito si sacrifica dalla mattina alla sera e non viene riconosciuto se non ha voce in capitolo quindi una cosa da riflettere quanti soldi staranno saranno dati alla chiesa quindi faccio l'offerta la mia decima quindi all'interno di una famiglia credente quindi anche questo ah ma tu hai fatto questa offerta ah ma non mi piace quello che sai conflitti problemi dovremmo usare la carta di credito oggi è una cosa e mi sa che aumenterà in italia no aumenterà in italia e quindi è una cosa che bisogna pensare bene ancora che cosa facciamo quando le carte di credito vengono utilizzate in modo improprio vai su Amazon basta un clic quindi è spesso mamma mia la fine deve pagare hai capito è un problema abbiamo davvero bisogno di avere un budget ossia un preventivo non preventivare o programare il nostro futuro oppure spendiamo vai abbiamo preso il stipendio ieri dopo domani già è finito è seco bisogna pensare cosa succede quando non ci sono abbastanza soldi per l'essenziale per mangiare per vestirsi e per abitare diventa un problema quindi cari sono problemi molto presenti 2000 anni fa 4000 anni fa era così ancora oggi è così quindi la dinamica della società forse in tanti aspetti era diversa ma le nostre necessità sono abbastanza simili quindi risposte contrastanti a queste domande e altre difficoltà finanziarie possono far sì che una coppia sviluppi una malsana attenzione al denaro e ai bisogni materiali Dio desidera che un matrimonio sia libero da un'enfasi sul denaro affidandosi a lui per la sicurezza finanziaria devo guadagnare i soldi ma il Signore è il padrone della mia vita se io penso solo ai soldi alla questione materiale anche le mie priorità saranno diverse e i miei figli impareranno da me e essendo molto materialista io non posso avere due piedi in una scarpa giusto? Gesù Cristo dice nel Vangelo di Matteo perché o io o il Signore o Mamone io non posso servire Dio e Mamone quindi devo capire che il Signore tutto appartiene a lui Salmo 24 ogni cosa proviene dal Signore io devo cercare il primo regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose saranno date però questo ci vuole un sentimento all'interno della propria famiglia guarda quello che dice Ebrei la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro siate contenti delle cose che avete perché Dio stesso ha detto io non ti lascerò e non ti abbandonerò fede nel Signore, fede nel Vangelo Marco stamattina ha dato il Vangelo questa fa parte della parola di Dio del Vangelo un matrimonio in crisi è per concludere questa mattina quando il partner non riesce a riconoscere o a rispondere ai loro ruoli assegnati da Dio ossia l'uomo non fa l'uomo e la donna non fa la donna a volte la donna deve fare l'uomo e la donna di casa e l'uomo non vuole fare niente questo è un problema qua in questa piccola immagine c'è scritto più o meno così facendo la traduzione ebbene siccome io sono il sesso superiore il mio compito è che tu possa fare tutto perché come uomo io sono migliore e tu come donna sei una sposa e quindi siccome tu sei inferiore allora tu devi fare tutto quello che io ti dico di fare tutte le volte mamma mia questo è un dittatore quindi neanche questo va bene ognuno deve capire qual è il suo ruolo quindi fallimento da parte del marito nell'esvolgere la leadership responsabile quando è che un marito sbaglia? quando non è un leader spirituale se noi siamo in Cristo il marito è il sacerdote in casa deve portare la parola quando il marito non è credente allora questo ruolo tocca alla moglie che è credente però non è facile parlando ancora del marito non è finanziariamente responsabile ossia lavora bene la moglie lavora ma non sa amministrare è un problema serio butta i soldi ossia sembra quei programmi che dicono adesso ti do i soldi no ossia hai capito? ossia bisogna ragionare non bisogna neanche essere il braccio di pinguino corto però bisogna avere un giusto equilibrio rifiuta di prendere decisioni ah pensa decidi te io lavoro tu fai le scelte devi risolvere un problema in casa fai tu non va bene non dobbiamo sovraccaricare la propria moglie no? perché anche lei non è di acciaio, di ferro no? non cerca di risolvere i problemi ossia rimanda rimanda trascura la moglie emotivamente non fa mai un elogio non riconosce mai quello che fa ma si arrende sempre alle sue richieste non è onesto riguardo ai suoi desideri e bisogni quindi non c'è dialogo non c'è un aprirsi fallimento da parte della moglie invece quando non ha uno spirito sottomesso sottomissione non è una cosa brutta dopo voglio puntualizzare bene questa cosa ma nel frattempo leggiamo qua lei non ha uno spirito gentile quindi quella donna che veramente se stai vicino ti mangia ti fa male più che una donna è un drago apre la bocca e sputa fuoco meno male non ce l'ha un drago mamma mia se no neanche San Giorgio per vincere allora cerca di controllare il suo marito il marito non può respirare hai presente quando facevano i sub avevano quella gomma quella condotta il marito scendeva immagino che il marito scende per prendere il pesce e gli dice se non fai quello che dico io chiudo l'ossigeno diventa coinvolta in lotte di potere nel senso se il marito dice una cosa per lei non sta mai bene deve anche lei dire qualcosa il marito non può dire niente tiene ostinatamente le sue opinioni anche se l'altro ha un argomento non sto dicendo che tutto quello che dice il marito va bene no però se lui dice qualcosa non va bene si ritira emotivamente da lui quindi se non fa quello che dice lei si ritira è amare, è sarcastica quindi lo umilia davanti ai figli magari e cerca vendetta per non sentirsi amata mamma mia l'ordine di Dio è che il marito si senta significativo fornendo la sua famiglia ricevendo il rispettoso amore di sua famiglia riempie il suo bisogno di sicurezza attraverso l'amore accettazione la sensibilità ai suoi bisogni e l'impegno disinteressato nei confronti del loro matrimonio allora per riassumere questa cosa l'unica cosa che il marito vuole è rispetto l'unica cosa che la donna vuole è sicurezza un marito che la protegge un marito che è fianco a lei un marito che nel momento di decisione è presente da una parte rispetto vuole l'uomo dall'altra parte la donna vuole essere protetta vuole avere sicurezza ok cosa dice la parola di Dio mogli siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore il marito infatti è il capo della moglie come anche Cristo è il capo della Chiesa lui che è il salvatore del corpo allora prima di rispondere al versetto 22 guarda il versetto 23 il marito è il capo della moglie come? come è che deve funzionare questo capo della moglie? come Cristo è il capo della Chiesa Gesù come è il capo della Chiesa? prendi il bastone adesso vi faccio vedere che io vi faccio male Gesù come è il capo della Chiesa? si è sacrificato con amore con passione con pazienza con misericordia quando deve dire le cose lo dice non si ritira non dà agli altri la sua responsabilità ok? quindi essere sottomesso qua è nel senso di obbedienza ma una obbedienza ossia naturalmente la moglie è obbediente o è sottomessa al marito come anche un credente è sottomesso a Dio Dio mi vuole bene amén ha un proposto per la mia vita quindi io lo obbedisco perché so che lui tutto quello che lui desidera per me è buono quindi Paolo sta parlando per persone a me e a te che comprendiamo chi è Dio comprendiamo chi è Gesù e comprendiamo il nostro rapporto con il Signore per capire come deve essere il rapporto tra la moglie e il marito e vice e versa ok? quindi questa sottomissione non implica per esempio che la donna è più bassa nel senso di importanza in casa che la donna non sia intelligente che la donna non sa ragionare che la donna non ha voce in capito no 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 ossia guarda bene quello che dice l'Apostolo Paolo mariti amate le vostre moglie come anche Cristo ha amato la sua chiesa e ha dato se stesso per lei onestamente per me è più facile essere sottomesso che amare la moglie come Cristo ha amato la chiesa perché Gesù ha dato la sua vita per la chiesa si è sacrificato per la chiesa quindi quando l'uomo che vuole una donna sottomessa allora capisce che ha una responsabilità di proteggere allora immaginate una casa avete presente una casa quella casa fatta dai bambini non sia un quadrato c'è il tetto la donna è come se fossero le pareti il marito è come il tetto il marito è quello che è il tetto che protegge la famiglia dal calore dalla pioggia dal vento la donna è quella che sostiene il marito sottomissione è sostenere colui che mi vuole bene sottomissione vuol dire collaborare con la persona che fa di tutto per me grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti